Ci parliamo di due film, non solo uno, ma due film Che sono molto stupidi, perché a me si affano i film stupidi mi fanno veramente ridere Tipo quelli demenziali come che ne so, scemo più scemo, altre cose insomma del genere E sventura, cose così, non siamo sicuramente a quei livelli Però mi fanno anche ridere le American Painate, possiamo coniare questo nuovo termine Che praticamente è la stessa cosa, perché parla di questi due ragazzi che al liceo uno era un bullo, uno era lo sfigato Però tutte e due hanno lo stesso sogno, diventare poliziotti E arrivati a diventare poliziotti praticamente appena passano, poi diventano pure amici Però fanno pena al cazzo, fanno proprio schifo E quindi li mandano a fare le spie E voi direte, perché le spie? Scusa, non ci dovrebbero mandare migliori? Sì, solo che al governo americano in quel momento non gli fregava un cazzo Quindi li mettono tipo a un caso di merda Scopri lo spacciatore di una scuola del cazzo Così E niente, li rimandano praticamente al liceo Sempre solida roba, fa ridere Bevute, scopate, cose così Insomma, American Pai Solo in chiave un po' più grande e tipo poliziesco Che fa ridere, devo dire che fa ridere Uno dei due attori, ecco, lo conosciamo E non mi ricordo come cazzo si chiama, ovviamente Ma posso dirvi che è colui che è l'amichetto di Leonardo DiCaprio in The Wolf of the Wall Street Quindi, insomma, molto simpaticone lui E niente, il secondo film invece è la stessa cosa Solo che vanno al college E si chiama, infatti, Jump Street 22, Jump Street 23 O 21 e 22, non mi ricordo molto bene Però, però, devo dire Le trame sono cazzate Sono quei film che proprio guardi per ridere Per vedere, che ne so, il tizio che piscia nel bicchiere E quell'altro se lo beve Che magari si trombano una tizia E poi scopri che, non lo so, è qualcosa Che ne so, la sorella di qualcuno Cose divertenti così Però recitata abbastanza bene E quindi ti fa divertire lo stesso Uno di quei film con cui staccare Con cui divertirti Di merda, per carità Però di merda fatta bene Un po' di zucchero sopra, capito? Quindi io vi dico come film demensiale Un bel set di trama Poi andiamo verso i personaggi I personaggi sono tre A dire la verità Che possiamo recuperare Il tizio Bullo Che è tutto pompato Figo ma stupido Come una capra E il nostro Amichetto Wolf of the Wolf Street Che invece È quello intelligente Ma ciccetto Un po' così Ecco E il terzo Chi è? Il terzo è il loro capo Che è un Un altro attore Che probabilmente avrete visto In qualche altro film Stupido del genere Ma sicuramente Non mi ricordo il nome E non ve lo ricordereste Nemmeno voi Di questo attore qui Però vabbè Comunque E lui è il tizio Cazzuto E tutto il resto Che insomma Ci sta in tutti e due i film Tutti gli altri Praticamente Nemmeno si vedono Tranne forse i genitori Dei due Vabbè insomma Di uno dei due E Però C'è No Cambia tutto In ogni film Personaggi Sinceramente Fanno quello che devono fare Molto divertenti Sì per carità Per essere un demenziale Posso anche dire Dai Un 7 Molte volte Se ne escono Con quelle battute Che non c'entrano Un cazzo Ma che fanno Semplicemente Una critica Al giorno d'oggi E che ne so Ah no Non fai questo Come questo tizio qui Che noi conosciamo Perché magari Ha fatto una canzone L'anno scorso Ah che ride Cose così E quindi 7 pure qui Obiettivo Farti ridere Portare Leggerezza La classica Americanata In cui Che poi a dire la verità È pure illegale Ma che ci sto pensando Perché loro si scopano Delle minorenni Vabbè Comunque Obiettivo È farti ridere Cazzeggiare Tutto il resto E qui secondo me Ne posso dare anche Un 8 Perché È American Pie Solo un'altra chiave Polizie scafine Quindi Se avete voglia Di vedere altre cazzate E siete stufi Di riguardarvi American Pie Guardate questo Ci sta Jump Street 21 e 22 Ci vediamo al prossimo video Comunque il voto finale È assolutamente 7 più E Con il doppiaggio Di Jump Street Ci vediamo al prossimo video Ciao insieme a tutti